ciao allora oggi vi voglio parlare di questo fondotinta della essence questo che lista perfect liquid makeup strong matte effetto waterproof quindi stratificabile e tutto quanto allora è un 30 ml ed è costato 4 euro e 99 e in questa confezione con il beccuccio applicatore abbastanza particolare allora prima di tutto dice di essere fondotinta perfetto liquido texture liquida e leggera allora va bene vediamo se mantiene le promesse dunque prima di tutto vi ho fatto lo swatch ma poi ho fatto anche il test di prova su strada per vedere come si comporta allora vi ho detto che il colore che ho io è il 30 che vedrete dall'applicazione sembra chiarissimo davvero chiaro ma attenzione perché si ossida ossida tantissimo infatti se vedete anzi adesso ve lo faccio vedere così e si capisce comunque quando vedete che lo applico finché ancora bagnato sembra chiaro poi dopo appena si ossida due minuti e tre al massimo diventa del mio tono di pelle non si vede neanche lo stacco quindi attenzione a scegliere un colore chiaro perché tende a ossidare tanto quindi se scegliete quello giusto per il vostro incarnato secondo me rischiate che poi diventa molto scuro comunque intanto vi faccio vedere lo swatch e il test su strada dice di essere strong matt waterproof e con una coprenza stratificabile vediamo ciao 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 sembra chiaro ma alla fine ossida tantissimo allora questa è un'applicazione aspettate ok avete anche l'orario sono le 11 adesso ritocco solamente occhiaie non metto cipria e ce la teniamo così ok tra due minuti ossida me lo faccio vedere e diventa del colore giusto ok allora il tempo di fare sopracciglia e guardate quanto ossida adesso sembra il colore quasi perfetto comunque vediamo che si vedono ancora qualche imperfezioni ma non voglio mettere cipria correttore roba varia un test oggi comunque il risultato è questo senza niente sono le 11 e mezza e iniziamo il test a finisco allora aggiornamento sono una meno un quarto intanto in casa ho fatto dei lavori ho lavato stirato ho aspirato e mi mancano ancora la lavatrice da fare va bene comunque sia dire che si un po le imperfezioni si vedono ma non ho messo a correttore ho proprio voluto tenerlo solo quello è bello asciutto ancora è asciutto quindi per adesso regge bene a vedete che non c'è neanche stacco di colore quindi comunque sia se proprio uso l'aggiornamento sono le 16 30 nel mentre io sono stata in cortile a fare dei lavori e ho fatto il bucato quindi ho fatto altre cose il trucco non ha letto tanto ma però e neanche i capelli ma il fondotinta non ci interessa questo sono appena leggermente unta sulla fronte ma guardate che è una cosa leggera per il resto regge benissimo si si vedono un po le imperfezioni ma non ho messo né correttore né cipria quindi si sta uccidando il naso però tranne alcune zone della fronte e il naso per adesso il resto è bello allora eccoci conteniamo gli aggiornamenti adesso sono le 19 e direi che iniziamo intanto il pomeriggio e ho fatto cosa computer è steso direi che inizia a lucidarsi anche il naso un pochino si lucida anche le guance la fronte è lucida si è proprio lucida quindi diciamo che dalle 11 quando l'ho messo adesso che sono le 19 sono 8 ore e più o meno la retta ricordiamoci senza cipria quindi questa è senza cipria e si vedono imperfezioni perché comunque non ho il correttore ultimo aggiornamento allora sono le 23 e 30 quasi quindi direi che è ora di andarsi a struccare e direi anche che non ce la fa più quindi sono lucida un po ovunque si vede con tutte le imperfezioni a vista ma ricordiamoci che l'ho messo alle 11 non ho applicato cipria e nel correttore quindi direi che comunque sia adesso è tremendo e va bene però fino a qualche ora fa era perfetto senza cipria e io la pelle mista ultimo aggiornamento ciao per la struccarmi buonanotte effettivamente ha una buona coprenza è un fondotinta abbastanza opaco comunque sia io applico sempre la cipria sopra sempre perché ho la pelle mista ma waterproof sinceramente però dura dura davvero tanto ed è durante la giornata con la pelle mista tende a lucidare un pochino la zona t però vado a ritoccarlo cosa positiva non si va ad espostare o a creare delle chiazze quindi semplicemente tende un pochino a svanire però ed è si va un attimo a tamponare la zona lucida ed è ed è a posto la coprenza si effettivamente è modulabile e è modulabile però sempre stessa cosa durante la giornata tende un po a svanire si può o riapplicare o ritoccare quindi è abbastanza facile la cosa che mi ha stupito qui dice insta perfect potrebbe filtro da instagram effettivamente al tatto una volta applicato asciugato ha e vellutato cioè non è ed è secco è proprio vellutato quindi rende la pelle davvero molto bella poi ovviamente io ci vado applicare sopra la cipria quindi un po l'effetto svanisce però applicato così sembra davvero un filtro è particolare e non ho fatto vedere questo qui è particolare però sinceramente non mi dispiace anzi davvero valido allora se ecco ho trovato adesso a fine video che il colore 30 è un fanny ivory ok ho visto che c'è davvero in tante colorazioni quindi magari prenderei un tono più scuro ma stando attenta perché vi ho detto che davvero ossida tanto e quindi lo proverei sicuramente prima di comprarlo sulla pelle è vero che è un fondotinta da 4 euro e 99 quindi anche se il colore è sbagliato non è questa gran tragedia però attenzione perché davvero come avete visto ossida tanto allora io questo ve lo consiglio perché mi è piaciuto davvero tanto fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come siete trovate io come sempre spero di essere stata utile se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando a cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta a cliccare con un nuovo video e alla prossima ciao